Converse Social è la soluzione più semplice ed efficace per gestire il servizio clienti su Facebook, Twitter ed altri social network. Permette di soddisfare con il minimo sforzo le richieste di ogni utente, pur fornendo tutte le funzionalità avanzate di un contact center, sicurezza, tracciabilità, collaborazione e monitoraggio delle performance. In questo breve video vi mostrerò come Converse Social permette di gestire facilmente anche grandi volumi di richieste. Portiamo l'esempio di una catena di centri benessere chiamata Fine Waters. Gli utenti possono comunicare con l'azienda su Facebook tramite commenti sui post della pagina, postando direttamente sulla bacheca oppure tramite messaggi privati. Nel caso di commenti pubblici le richieste di supporto possono essere mescolate a commenti meno rilevanti. Gestire un caso sulla pagina Facebook o Twitter può essere difficoltoso in queste situazioni. Vediamo come Converse Social può aiutarvi a gestirle. I messaggi appaiono qui, nell'area conversazioni. Sulla sinistra si vede l'elenco degli scambi con gli utenti. Converse Social analizza il testo delle richieste e identifica quelle prioritarie, segnalandole in rosso. Selezionando una conversazione posso vedere tutti gli scambi avvenuti fra l'azienda e l'utente. Converse Social nasconde i messaggi non rilevanti, evidenzia le parole chiave e classifica automaticamente i messaggi in base a regole predefinite per velocizzare il lavoro degli operatori. Qui si può rispondere tramite messaggi pubblici o privati e interagire secondo le varie modalità per messere social network in base alle necessità. È anche possibile passare direttamente al social network in qualunque momento. L'operatore o il manager può assegnare i messaggi dei collaboratori, creare note interne, visualizzare le conversazioni precedenti con lo stesso utente e accedere al suo profilo social. Se necessario è possibile visualizzare l'intero tracciato di chi ha fatto cosa e quando. In questo modo Converse Social permette una gestione dell'assistenza clienti sui social facile e veloce permettendo agli operatori di concentrarsi su soddisfare le richieste dei clienti riducendo gli errori e il tempo di gestione. Per una dimostrazione gratuita di come Converse Social può aiutare la vostra azienda